buongiorno e bentornati in questo video vi presentiamo l'illuminatore per microscopia è un illuminatore che può essere posizionato sulla maggior parte dei microscopi stereoscopici oltre a poter regolare l'intensità di illuminazione variandola quindi aumentandolo diminuendola possiamo anche selezionare vari settori vi ha acceso un settore il secondo settore il terzo e l'anello completo quindi è un anello illuminatore che si aggancia sotto l'obiettivo di un microscopio stereoscopico e viene fissato con le opportune viti è presente con un adattatore che permette di renderlo compatibile con la maggior parte dei microscopi stereoscopici grazie per aver visto questo video vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale e vi salutiamo grazie alla prossima grazie a tutti